non posso dire che la spacca al tavolo si è anche l'albero si stava venendo ATTENZIONE OH la blocca qui è Andrea eh come si può schienare anche fuori con il diavolo quindi schiaventi insomma uno dovrebbe provarli perchè avevano mal match quindi and there he goes under the bottom rope and maybe some order will be restored here l'azione è di trovare in queste pelle eh però al futuro non li ha ancora abicinati OHHHHH via! era a mandarlo via come ragazza ancora? mamma mia il match è equilibratissimo eh Andrea si veramente oh vai 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 hai visto Andrea? ohhhh è qui male è questo male eh si la offer ne ho qui è riportare la presa alla vita di Stipendio si dà attenzione lo prende qua lo lascia e dice no basta le pugni a me dove va Stipendio? scappa via Stipendio e attenzione ancora no eh ancora no attenzione ah qui lo schiva bravo FMO si però era un po' troppo lontano qua a manovra di big boot le fatte di FMO attenzione c'è un tavolo lì anche Gradoni Gradoni no bravo FMO di Battaglia Mossa attenzione attenzione bravo bravo Stipendio attenzione attenzione quale fa oh bravo FMO attenzione oh zig zag increíble vuole andare a chiudere attenzione uno due uh solo due ma ci è mancato davvero molto poco Andrea eh eh sì c'è una vicina questa volta FMO ancora quattro stand su FMO ora sta non dico dominando ma quasi ha incontrato il match in questo momento attenzione agarazione di Stipendio altra fare nientra fare nientra fare attenzione nientra fare backdrop backdrop oh siamo vicino al tavolo eh sì già me ne ho visto uno in faccia qua di prima oh mio dio oh mio dio cosa vogliamo fare attenzione attenzione oh no tiri 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 fatti in sepenzo velocissimo qui guardiamo le play e poi andrà uno schieramento attenzione eh Andrea che mossa però lo stai prendo mamma mia ragazzi che mossa mi stai prendo qua il 3 uno due e sono uno sono pronto di due incredibile riporta sul ringa no qui lo manca oh attenzione qua bravo FMO attenzione FMO qui lo prende bravo FMO bravo FMO bravo FMO attenzione va andare per il paletto non so se è una buona idea lo aspetta a Bart lo aspetta a Bart attenzione ancora lui FMO va a vuoto ahia attenzione qui sepenvio ottima mostra adesso e poi è stordito gross body FMO qui è stordito Andrea va a rasgarlo uno due no se lo butti di due FMO attenzione FMO qui tra lui non ha niente a fare bravo bravo Stipendro bravo Stipendro bravo Stipendro attenzione attenzione ha preso una cosa ha preso una scala Stipendro invece prende qualcosa di più maneggevole sceglie la sedia eh attenzione oh 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 che segliata eh si segliata scalata scusate che scalata ragazzi attenzione attenzione vuoto va completamente a vuoto attenzione FMO che è sciolato l'hai vista Andrea? eh si che succede qua? che succede? tornò a DT? si tornò a DT in arrivo andare al Pinda eh ci va un po' lento uno due eh solo due soltanto due ancora mamma mia nessuno dei due vuole abdicare almeno può favorire il suo avversario il suo avversario ancora tornato a DT attenzione attenzione Flutternet Breaker mamma mia ragazza attenzione un po' il un po' il un po' il fa volare il stipendro bravo bravo un po' il vuole volare qui no è lento FMO è il tempo lento bravissimo FMO qui attenzione bravissimo FMO Oh, cale giù Attenzione Stipendro, attenzia Stipendro Guarda lì, attenzione Oh, vuoto Ma vuoto L'FMO, provo a schierarlo Non ci credo 1, 2 e 3 1 e 0 l'FMO Incredibile Ero ragazzi qui di Stipendro Di solito non li fa perchè non vuole dare troppo spettacolo a volte Guarda qui, metti da fuori al ring Come su un gravissimo errore Attenzione ancora Oh, salta un piede Possione in questo modo di trio Vroom FMO Ma vabbè io ho segnata però Non c'è se stai bene, attenzione qui Un basso di un Ford Non ci credo Incredibile Incredibile è qui FMO Incredibile è qui FMO Sulla sedia Oh, è finita Andrea Andrea è finita qua 1, 2 e 3 2 e 3 FMO Spavaldo ora Attenzione Era colpito, non ce l'aspettava qui Stipendro, scusate FMO Non ce l'aspettava Attenzione Oh Qui tutta la raga è di Stipendro Guardatelo E' qui però Nientra a fare, nientra a fare Attenzione qui, nientra a fare E' qui E' qui E' qui E' qui E' qui E' qui Nientra a fare, nientra a fare E' qui E' qui E' qui E' qui Nevo Nevole E' qui E' qui E' qui E' qui E' qui La rivorta sul ring Attenzione Vabbè Ragazzi Un sale di stop di bastanti E poi lo manda Lì Attenzione Lo manda lì Attenzione Down kick Attenzione Attenzione 1 2 2 No Si riprova Si riprova 1 2 Si riprova ancora Fm Attenzione 1 Altro conto di 1 Si riprova ancora Attenzione 1 Però con la rambata tecnica Così lo tiene seduto Infatti Attenzione Oh Drop kick presevole davanti di Stipendro Attenzione Oh Sua scala Andrea Che botta è finita qua Lo ha 1 E si 1 2 No Incredibile Stipendro è impazzito ora Stipendro è impazzito Oh no Andrea Non ho mai visto Stipendro così Non ci crede E' incazzato nero Salve Attenzione Oh Qua l'ha presa Andrea Andrea Qua l'ha presa Andrea Qua l'ha presa Attenzione Attenzione 17 minuti Oh Cosa ha fatto? Ho spalleato tutto qua Oh my Mi stava avrei portati sul 2 a 1 qui Stipendro Però Niente da fare Già Qui c'è il lock strana mossa eh Eh Tocca i gol del bravo Stipendro FMA ha questo interlasciare Attenzione Ancolo Che bravo Stipendro Stavolta è finita Andrea Stavolta è finita 2 a 1 1 2 E 3 2 a 1 Vede FMA ancora Eh sì E ora FMA potrebbe rambiarsi lui Attenzione C'è anche psicologico questo La scelta attenzione Questa cosa va Altra attra Tornando i diritti Ma lo fa fare Ma niente da fare Oggi Stipendro lo è mosse dal paletto eh Eh niente da fare Infatti Stira un braccio qua Ma lo fa correre attenzione Lo fa correre Nooooo Stipendro Molto bravo Guarda al paletto a Stipendro Guarda al paletto a Stipendro Oh santo no Travoloso Uno Due E no Per pochissimo Incredibile Questo era quasi un tre Questo andrei era quasi un tre Attenzione No Seppendro non fare questi errori Non riesce a colpirlo Attenzione 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 Uh no Non lo dovete fare Seppendro Avvodan qua Mamma mia Di cambio di manovre Attenzione Lo sto aspettando a farlo Attenzione Oh Oh Sottotena Viva Non mi sono fatto sì Andrea Quello io Uno Due Niente da fare Mamma mia Però seppendro Qualità non c'è da fare Alzarsi Attenzione Lo solleva Attenzione La cosa hai usato Crystal Mania Ti ricordi? Eh sì Con questo ha vinto il match Contro Le slecone Attenzione Attenzione Uno Due No Niente da fare Non deve rubare Il Jeff Mnoh Non deve rubare Attenzione Qua Attenzione Qua Bravo seppendro Bravo seppendro Tommi troppo Eh ma attenzione Ancora Fmnoh Il fattendro Seppendro scappa Scusi Slam Oh Neckbreaker Bisogna prendere Attenzione Ho preso la cintura addirittura Andrea Quella vera Attenzione Ecco l'occhio da parte di vista Eh si Ecco l'occhio, ho preso la caviglia E' un po' mi sembra un po' mi cinto Oh 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 Vola Vola, vola cintura Ma prega Non lo so Allora lì Ma dove il volo? Oh Eh ma ti sei così con passare il tempo No Sto ancora vincendo Sependry dovrebbe rincorrere Sependry Incredibile Intercetta FMO Eh vuole fare una Sidiata a volo Non si è mai visto Non ci credo Uno Due Oh basta Basta Siamo a 12 minuti 2-1 per FMO Eh Campione Potrebbe diventare FMO Se rimanesse così Il risultato finale Il risultato anche Però È Allora E' Che Che Sì, fam, we'll see you, fam.